francesco petrarca francesco petrarca nasce esule ad arezzo nel 1304 da famiglia fiorentina la famiglia poi si trasferisce a pisa e in seguito francesco segue il padre ad avignone alla corte papale parte per bologna per studiare diritto e continua a studiare anche i classici il 6 aprile 1327 incontra laura nella chiesa di santa chiara ad avignone nel 1330 diventa chiedico e lavora per la famiglia dei colon studia gli antichi e viaggia per l'europa comincia a comporre alcune opere come il diviris illustribus e l'africa in latino nel 1337 acquista una casa a valchiusa e nel 1341 data la sua fama riceve la corona poetica a roma nel 1342 avviene la prima stesura del canzoniere si stabilisce poi a parma e nel 1347 lascia colonna schierandosi con l'avventura repubblicana di cola di rienzo nel 1348 laura la donna amata muore di peste nel 1350 incontra giovanni boccaccio poi nel 1353 si stabilisce a milano dalla famiglia di visconti muore il figlio giovanni e si trasferisce a venezia nel 1369 grazie a un dono dei carraresi si trasferisce in una tenuta ad arqua dove muore nel 1374 possiamo trovare tre principali fonti della cultura di petrarca sicuramente il mondo antico petrarca può essere definito il primo umanista e uno scopritore di testi antichi il mondo cristiano ovviamente no e quindi sente tutta la contraddizione tram le virtus la virtus del mondo antico e gli ideali del mondo cristiano e infine la letteratura volcare contemporanea quindi dante guido cavalcanti cino da pistoia vediamo le opere il canzoniere il titolo originale di quest'opera è rerum vulgarium fragmenta ossia frammenti di cose in volgare frammenti sì che sono le poesie ma sono anche frammenti dell'anima stanno anche a simbolo della frammentarietà della confusione interiore del poeta non è una semplice raccolta di poesie ma è un racconto unitario cioè le poesie sono disposte in un certo ordine a raccontarci un itinerario spirituale di francesco si tratta di 366 poesie divise in due parti in vita e morte di laura 317 sonetti ma anche canzoni sessine ballade e madrigali ma i sonetti ovviamente sono di più fino al componimento 263 sono le poesie in vita di laura e dopo quelle morte di laura quando c'è il pentimento appunto per aver inseguito una cosa terrena quale l'amore abbiamo un manoscritto del canzoniere in parte autografo in parte ideografo che significa che in parte scritto per mano dello stesso petrarca in parte copiato da un copista di fiducia quindi sotto il suo controllo di cosa parla il canzoniere abbiamo detto che non è una semplice raccolta di poesie ma un romanzo una sorta di diario dell'amore di francesco per laura dobbiamo stare attenti a credere che tutto ciò che è scritto nel canzoniere sia vero vero e falso si intrecciano meglio vero e finzione si intrecciano anche questa storia come perdante ha un significato simbolico è un vero e proprio romanzo in versi se vogliamo c'è una bozzo di storie c'è un inizio e una fine ci sono dei personaggi francesco laura amore molti altri e c'è anche una certa dose di realismo quali sono i temi del canzoniere il tema preponderante sicuramente l'amore ma non è l'unico tema trattato da petrarca ci sono poesie sulla corruzione della curia papale di avignone lamenti funebri testi encomiastici ossia dedicati ad elogiare qualche personaggio influente per quanto riguarda la lingua petrarca a differenza di nante non inventa nuovi termini ma utilizza i termini già usati nella tradizione quindi un linguaggio molto selezionato molto elevato proprio con lo scopo di elevare il volgare a livello del latino che per petrarca era lingua letteraria per eccellenza in merito alla fortuna del canzoniere essa fu semplicemente immensa fu un modello per gli scrittori di tutta europa e nel 400 e 500 fu la fonte per la poesia amorosa dando vita al cosiddetto petrarchismo la maggior parte dei poeti che scrivono d'amore si ispiravano a francesco petrarca vediamo alcuni dei componimenti più famosi abbiamo detto che sono tantissimi questi sono soltanto alcuni di quelli più conosciuti voi che ascoltate il rime sparse il suono è un sonetto posto a prologo di tutta l'opera cioè è il primo sonetto del canzoniere ma questo non vuol dire che sia stato scritto per primo anzi è un sonetto in cui francesco già parla del suo pentimento nell'errore del suo amore terreno per laura e quindi è chiaramente stato scritto dopo noi sappiamo che non è stato l'ultima ad essere scritto normalmente uno degli ultimi questa è la metrica del sonetto quindi due cartine e due terzine con questo schema metrico in questo sonetto petrarca si rivolge al lettore e spiega il pentimento per il suo amore terreno l'amore dunque visto come un male come smarrimento altro sonetto famosissimo sole pensoso e più deserti campi questo è lo schema metrico stesso di quella di prima petrarca si rifugia in luoghi solitari perché ha paura che le persone notino i segni del suo innamoramento il fatto che lui è innamorato di laura è assolutamente evidente ma nonostante fugga dai luoghi affollati quindi si rivolga a luoghi solitarie anche la natura sembra conoscere i segni dell'amore di petrarca e amore quindi personificato viaggia sempre con lui non lo lascia mai in pace questo sonetto sembra essere scritto in presa diretta cioè petrarca come se petrarca lo scrivesse mentre sta appunto facendo questa camminata in realtà non rappresenta una camminata in particolare di petrarca ma tutte le sue passeggiate in solitudine tutta la sua ricerca di solitudine proprio per nascondere i segni dell'amore questo è probabilmente il sonetto più famoso di petrarca erano i capi d'oro a laura sparsi in cui ricorda il primo incontro con laura ma dice anche che laura non è più quella di un tempo i segni del tempo si fanno vedere anche sulla bellissima laura che quindi una donna assolutamente terrena ricorda la giovane laura e anche se laura è cambiata l'amore non è diminuito piaga per arlentar d'arco non sana ci dice petrarca quindi non è il tempo che ha fatto diminuire l'amore per laura laura che è un senal secondo infatti la letteratura provenzale come vedete a laura è scritto no questo è l'apostrofo laura richiama il nome di laurea quindi associa la donna con il il soffio il respiro il vento è un tipico meccanismo provenzale senal significa insegna applicato dunque dai poeti provenzali alle loro donne che petrarca riprende altra canzone famosissima chiare fresche e dolci acque quindi una canzone questa non un sonetto è composta da cinque stanze di tredici versi più un congedo di tre versi questa è la metrica come vedete alcune lettere sono scritte in minuscolo altre in maiuscolo che significa quelle in minuscolo indicano dei settenari quelle in maiuscolo degli endecasillabi il congedo a due endecasillabi e un settenario con questo schema di rime quindi questo è lo schema di rime di chiare fresche e dolce acque la canzone sarà scritta nei pressi del fiume sorda in val chiusa e intreccia tre piani temporali passato presente e futuro quindi la scena che ha di fronte petrarca descrive in tre tempi nel passato ricorda i momenti in cui laura si riposava presso quel luogo cullata quindi dal paesaggio nel presente contempla gli elementi naturali del posto che testimoniano la visione miracolosa di laura e nel futuro il poeta chiede di essere seppellito accanto a quel fiume c'è anche il topos del locus a menus no del luogo tranquillo in cui stare in pace è una poesia che per certi versi si avvicina molto agli stilnovisti vediamo adesso le altre opere di petrarca i trionfi iniziati dopo la morte ai laurea nel 1348 sono scritti in volgare e raccontano della visione di personificazione allegoriche dei grandi temi della vita umana quindi il trionfo dell'amore della pulicizia della morte la fama del tempo dell'eternità in questi trionfi si alternano personaggi storici e mitologici sono in prima persona e parlano ancora dell'amore per laura in questa opera per la causa la terziana dantesca quindi proprio un tentativo di misurarsi con la grande opera di di dante anche quest'opera infatti un'opera didattica che quindi vuole insegnare qualcosa infatti classifiche giudica i personaggi storici da un punto di vista cristiano altra opera fondamentale di petrarca il secretum in questo caso scritto in prosa latina composto tra il 1347 e il 1353 non era destinato ad essere pubblicato o meglio ad essere diffuso è quindi una conversazione intima di petrarca in cui mette a nudo la sua interiorità la sua spiritualità ispirandosi alle confessioni di sant'agostino che appunto è un personaggio di quest'opera infatti l'opera è scritta in forma dialogica un dialogo tra tre personaggi francesco agostino e la verità che però rimane sempre muta e in tre libri nel primo libro il santo rimprovera il poeta per essere stato troppo debole esprona quest'ultimo ammirare ciò che è realmente importante e benefico sia la virtù nel secondo libro sempre agostino analizza sette peccati capitale si concentra su quello che petrarca considera più grave ossia l'accidia nel terzo libro agostino tocca petrarca nei suoi nervi scoperti nei suoi punti deboli sottolineando con forza i due peccati a cui non riesce a rinunciare l'amore per laura e il desiderio rigore letteraria che sono entrambe delle cose terrene la cosa più importante invece la virtù perché la verità resta muta perché i contrasti che petrarca esprime in quest'opera sono destinati a rimanere risolti sono i contrasti di cui abbiamo parlato all'inizio l'impossibilità di scegliere tra la gloria terrena tra le cose terrene e da buon cristiano l'amore per dio la tensione verso dio dovuta anche alla sua cultura mista cultura cristiana ma anche cultura classica in cui la virtù sarà la cosa più importante ma non importanti anche le cose terrene quindi la gloria ad esempio è un'opera che parte dalla sua interiorità ma che sicuramente ha un significato universale si rivolge a tutti gli uomini chi era sant'agostino di pona nato il 13 novembre 354 e morto il 28 agosto 430 è stato un filosofo viscovo teologo romano di origine nordafricana di lingua latina esponente della patristica e autore delle confessioni come abbiamo detto petrarca ci ha lasciato un'imponente collezione di lettere a differenza di quanto si possa pensare queste lettere non erano private anzi destinate ad essere lette e possiamo classificare in familiari senisi nomi ossia senza nome e tante altre lettere di vario genere sono delle riflessioni per lo più sugli eventi storici ma ci sono anche lettere fittizie agli autori antichi a volte il destinatario non è nominato proprio perché quando magari critica qualcuno non vuole metterlo in difficoltà qua ci sono alcuni dei trattati latini e scritti da petrarca di visi lucibus il vero un memorandarum libri delle medie su giusque fortune di vita solitaria di ozio religioso l'africa questo è il poema latino da cui petrarca si aspettava la gloria dal momento che considerava il latino ancora una lingua superiore al volgare e dall'africa che petrarca riteneva di poter avere la gloria eterna appunto un poema latino in nove libri in esametri che tratta della seconda guerra punica il personaggio principale ovviamente scipione l'africano e la fonte storica e tito libio petrarca cerca di mantenere la fedeltà storica trasformando quindi quegli avvenimenti realmente accaduti in poesia è un'opera piena di ammirazione e pessimismo perché sempre per il solito contrasto di come abbiamo già parlato tra le cose terrene quindi la gloria ad sempre la gloria militare e la fede cristiana piccolo ripasso che cos'è la seconda guerra punica la seconda guerra punica abbiamo visto che avviene dal 218 al 202 avanti cristo inizia con la vittoria dei cartaginesi guidati dal generale annibale che passa attraverso le alpi e coglie una serie di vittorie ma poi il conflitto volse a favore dei romani anche grazie a scipione poi detto l'africano proprio perché conquista la parte settentrionale dell'africa sconfiggendo cartagine grazie alla prossima lezione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti